L'amore vince sempre. Nooooooo! L'odio è il profumo della vita. Riuscite ad immaginare un mondo senza odio? Anche nei videogiochi è importante odiare. Nei multiplayer purtroppo si viene puniti. Ma possiamo sempre concentrarci sui giochi in singolo. In particolare su personaggi barra creature barra... Sarebbe servita una top 100. Ma proverò a sceglierne solo 10. Via! Xenoblade 2 ha diversi problemi. Alcuni sono stati risolti con delle patch. Uno di questi era... Lui! Anzi, loro! Erano troppo forti? In un certo senso sì! Ci hanno fatto canzoni, meme. Monolith stessa ci ha scherzato su. Ma vi assicuro che non era per niente divertente. Queste cose succedono quando non è abbastanza tempo per sviluppare un gioco. You're done! Sempre lui. Patches la Iena. Il famoso personaggio di... Shadow Tower Abyss. Ignoranti che non siete altro. Alla fine lui non fa niente di male. È solo un uomo che ama dare calci alle persone. Calcio! Dai, però ha una faccia simpatica. Veramente. La vedrei bene su qualsiasi... Vabbè, nonostante tutto, a me sta simpatico. Stavolta mi voglio fidare. Odio i pelati. Vi è piaciuta la precedente posizione, eh? Sì, sì! Scrivete dei commenti positivi. Ho bisogno di essere amato. Adorato. O no? Bye Azura! Bye Azura! Bye Azura! L'adoring fan non può manco essere ucciso. Cioè sì, può morire. Ma dopo tre giorni torna in vita. In Starfield è tornato. E si è dato una calmata. Non solo rompe molto meno il cazzo. Ma viene considerato da tutti il compagno migliore. Si può dire? Lui è la cosa migliore di Starfield. La cosa che più odio dei JRPG è... Oh cazzo. Zubat. Questo deve essere il Monte Luna. Ma non dovrebbero esserci anche altri Pokémon? Per esempio dei Clefari. Oh cazzo. Perché tutti li odiano? Sono scarsi. Danno poca esperienza. Sono tanti. Tanti, 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 tanti. Che brutto incubo. Dai ricominciamolo con calma. Ma che cazzo? Eh? Ma quindi è tutto Zubat? Lo è sempre stato. E in sesta posizione c'è... Brondo. No no sto registrando. Ciao. Dicevo in sesta posizione... Brondo. Let's go bowling. No da fare. Allora in... Brondo. Let's go bowling. Ok andiamo a bowling. Se molti paesi stanno avendo un calo demografico non è colpa degli stipendi bassi. È colpa sua. Oh ma che bel bambino. È un mostro. Questa lagna ha anche degli aspetti positivi. Ti spinge a non farti colpire mai. Nintendo sapeva benissimo che era odiato. E cosa hanno fatto con il seguito? Hanno aggiunto Baby Peach, Baby Warrior e Baby Donkey Kong. Per fortuna la serie è morta. Si sono resi conto che era impossibile riuscire a creare qualcosa di ancora più fastidioso. La pubertà è una fase delicata per i ragazzi. Bisogna avere pazienza. In God of War ci sono più di 70 opzioni di accessibilità. Ma non puoi far stare zitto questo moccioso. È quasi più fastidioso della vernice per i ritardati gialla. Che poi in realtà è odiato anche per altri motivi. Quali? E il brutto è che non possiamo neanche insultarlo. Sarebbe considerato una bestemmia. Dobbiamo trovare un'altra maniera. BASTA! PORCODI- Dimmi che non hai giocato a Skyward Sword. Senza dirmi che non hai giocato a Skyward Sword. In terza posizione, Navi! L'unica risposta corretta è Fai. È un caso che sia in uno degli Zelda più odiati? Io non credo. Fai è praticamente una deficienza artificiale. Link, hai visto? Link c'è un tesoro. Lo vedo, puttana! Ah, eh... Puttane! Ok, Fai. Sono bloccato da ora in questo puzzle. Aiutami! In questa posizione ci saranno solo meme. Leon! Leon! Help! Livelli di dolore. No! Vuole sentire il rumore più fastidioso del mondo? No! 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 Yes! Yes! No, non credo che lo fanno. Scusate. Accipicchia! Mi sono dimenticato di salvare. Due ore di gioco perse. Mi sembra una punizione su fi... Mi aspettavo chissà quale ramanzina da Mr. Resetti. Invece è stranamente gentile. Un attimo dopo. Ora capisco perché è stato licenziato. Ti insulta. Ti fa dire cose orribili. Ti costringe a fare cose orribili. Ti fa perdere tutti gli iscritti. Cosa? Ti fa perdere tutti.